Sì, assolutamente, la stagione è cominciata oltre ogni nostra più grossa aspettativa, però le premesse dal punto di vista della campagna acquisti erano veramente buone, stiamo rinnovando la squadra, gli innesti che ci sono sono perfetti, si sono integrati bene e si sta veramente andando. Si può dire che il Tavagnacco sia proprio la vera sorpresa di questo campionato, dove potrà arrivare la squadra secondo lei? Ancora, come dice il mister, noi puntiamo solo alla salvezza, in realtà sento le ragazze motivatissime e che cosa ci porterà il resto del campionato, io credo dipenda solo da noi, l'atteggiamento è veramente differente, basta vedere in difesa la differenza che c'è fra questo campionato e lo scorso.